Ciao a tutti, sono Paola Fendoni e bentornati su questo canale YouTube sul narcisismo e le relazioni tossiche. Oggi voglio parlare a chi ha subito gaslighting da parte di un partner narcisista. Ricordati di iscriverti al canale YouTube per essere sempre aggiornata sui nuovi video e per contattarmi in privato puoi inviare una mail a paolafendi.gmail.com. So quanto sia crudere l'esperienza del gaslighting e voglio farti sapere che non sei sola. Il gaslighting è una delle tattiche più crudeli che una persona possa fare. Quando sei in una relazione tossica con un narcisista questa pratica diventa la tua normalità e ti fa sentire costantemente insicura e confusa. Ti chiedi se sei responsabile di qualcosa che non ricordi di aver fatto cercando di capire la verità in mezzo a una nebbia di menzogne. Ciò che rende il gaslighting ancora più nefasto è una frase che spesso viene utilizzata e che può distruggerti completamente. Nessuno ti crederà. Immagina che un amico ti mostri una foto del tuo partner mentre bacia un'altra persona. Tu affronti il tuo partner ma lui nega tutto e ti dice che sei pazza, che sei tu a inventare le cose e che nessuno ti crederà. Questa tattica funziona perfettamente per i narcisisti che sanno indossare una maschera in pubblico ma che in privato si rivelano completamente diversi. Questa sensazione di non essere creduta, di non essere ascoltata può farti sentire ancora più sola, confusa e impotente. Poi arrivare ad atto accusarti, a dubitare di te stessa ma non devi farlo. È importante ricordare che la colpa non è tua e che non sei sola. Ci sono persone che ti capiscono, che hanno vissuto quello che stai vivendo tu e che possono aiutarti a rinascere. Non permettere al narcisista di distruggerti completamente, non isolarti, non arrenderti. Ci sono persone che ti crederanno e che ti aiuteranno a superare questa esperienza. Segui i miei video e partecipa alle mie dirette. Troverai una comunità di persone che hanno subito la violenza psicologica del narcisista e che ti ascolteranno. Non sei sola. Rinascere è possibile e ti ricordo che se vuoi contattarmi in privato puoi mandarmi una mail a paolafendi.com. Un abbraccio.